Radio Bruno, in diretta dal festival di Sanremo Ben ritrovati amici di Radio Bruno all'interno dell'area stile dal Royal Hotel Sanremo Abbiamo Anne-Marie, hi! Ciao! Hey, you speak Italian very well, parli inglese veramente molto bene I'm not that good So and so? A little bit Un pochino, un pochino Just ciao Assolutamente ciao It's not your first time here in Italy, but in Sanremo sì Ok, quindi non è la sua prima volta in Italia, perché è già passata da noi, però a Sanremo sì Are you excited about it? Of course Sei un po' agitata, naturalmente Yeah, absolutely, I'm so excited, I can't wait, I'm nervous È nervosa, non vede l'ora But I'm excited But you, what do you want to do on stage on Sanremo? Your performance La tua performance quale sarà? I'm performing in Rockabye with Clean Bandit Oh yeah Yeah Let's speak about this collaboration Quindi si esiberà in Rockabye con i Clean Bandit Vogliamo parlare di questa collaborazione I've known them for quite a while now So we became friends and this song came about and I absolutely loved it so I just had to sing it Ok, allora Erano si conoscevano già, è spuntata questa canzone ed era molto contenta di fare il guest Also with Sean Paul Yeah, yeah, Sean Paul A great guest Un grandissimo guest di Sean Paul Yeah, I love him, I always listen to him when I was growing up, so it's a pleasure to be on a chat with him Quindi davvero è stato un piacere collaborare con lui So, let's speak about your Alarm, a great success Parliamo del suo precedente singolo che si chiama Alarm You are a record woman Yeah About YouTube Davvero una donna dei record per le visualizzazioni su YouTube e non solo Yeah, it was pretty mad I don't think it's such a hard thing to break as a new artist now Quindi è una cosa un po' difficile quando tu sei un artista emergente a fare così tanti numeri So I didn't know what to expect E non me lo aspettavo proprio Yeah, so we just put the song out, promoted it and Quindi l'abbiamo buttata fuori, l'abbiamo promossa e guarda Yeah Wonderful Amazing, pazzesco So this year, quest'anno, 2017, it's your year Cioè sarà il tuo anno New album, new single called Ciao a Dios Ciao a Dios For that reason you know Ciao Yeah, that's the reason Yeah, so that's coming out on Friday Uscirà venerdì, quindi venerdì uscirà questo singolo di cui stiamo parlando Ciao a Dio, che è il suo nuovo lavoro Yes, and I'm excited, so excited And then a couple more singles have come out, I'll be touring and my album Ok, quindi poi dopo sarà in tour e poi uscirà l'album What about your new album? That is coming out, uscirà? I'm not allowed to say what it's called Pardon? I can't say the name of it Ah, non posso dire il titolo ancora More or less the month September, October Oh But I have no idea Non, I have no idea del mese d'uscita But in this year Yeah, this year Okay, okay, well done So, what about this song? Could you tell us something about it? Ciao, adios? Yeah This is about getting over an ex-boyfriend Quindi andare oltre la storia, abbandonare l'ex e andare avanti So saying Bye Bye Quindi per dire ciao Yeah So it makes me feel good I hope that it makes other girls and boys feel good Okay, quindi lei naturalmente si dice ciao a Dio Con consapevolezza quando tu stai bene Quando anche lui sta bene With no fear Only to watch the future Go around Go straight Quindi quando tu vai avanti che stai bene Okay So Anne-Marie, could you say hi to the audience of Radio Bruno? Puoi fare un grandissimo ciao agli amici di Radio Bruno? Hi everyone at Radio Bruno, it's Anne-Marie here Hello Ciao Wow, fantastica Thank you so much, Anne-Marie Thank you Cheers Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri Etaddei, abbigliamento maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue